Ciao a tutti, belli e brutti. Oggi torniamo ad occuparci di Nathan Never, dopo parecchio tempo direte voi, effettivamente è da 45 e 47 secoli che non parliamo di Nathan Never su questo canale e a tal proposito io saluto e ringrazio anche per l'ascolto il padre Tallico che è uno dei più affezionati insomma lettori di Nathan Never, lo saluto perché lui tempo fa mi chiedeva quando insomma il prossimo video su Nathan Never e io gli rispondevo sempre secoli fa 45 e 47 giù di lì che a breve avrei parlato dell'ultima trilogia di Nathan Never sulle origini di Aristotele e Scotos non l'ho ancora fatto perché l'ho letta poi me la sono dimenticata anche e quindi la devo rileggere insomma prima di portarvela naturalmente sul canale ovviamente per chi fosse interessato vi posso dire che è una trilogia che proprio non mi è piaciuta per ora vi faccio questo spoiler ma ne parleremo in futuro perché per il momento ci occupiamo in maniera molto così molto leggerina naturalmente dell'ultimo speciale di Nathan Never che è uscito in edicola in realtà parecchio tempo fa ma io ho avuto modo di leggerlo soltanto negli ultimi giorni io non so più che cosa sia proprio la puntualità e insomma meno male che ci sono ancora canali che parlano di fumetti puntuali a tal proposito saluto il vizio del fumetto credo si chiami così è un signore molto molto esperto dal lessico intrigante che spesso e volentieri parla puntualmente lui ci riesce ancora di fumetti e quindi vi consiglio naturalmente di darci un'occhiata a proposito di nuovi canali che parlano di fumetti io vi consiglio assolutamente vi lascio di entrambi i canali i link qui in descrizione e naturalmente per chi fosse interessato ad andare a darci un'occhiata il canale di Lorenzo proprietario dell'account notizia dal mondo che da un po' di tempo è diventato un canale fa delle bellissime recensioni sui fumetti anche supereroistici lui è un grande esperto di comics supereroistici e spesso e volentieri parla anche di cinema e credo a breve registrerà qualcosa sulla musica per cui insomma seguitelo perché sei naturalmente interessati è veramente molto preparato e promette degli ottimi video insomma noi torniamo ad occuparci di Nathan Never con lo speciale numero 33 128 pagine a 6,90 euro non ho ancora capito bene questo discorso della fogliazione che ogni tanto ci sono gli speciali di 160 pagine altre volte ci sono gli speciali di 128 l'anno scorso lo speciale era di 128 pagine mentre invece l'anno ancora prima era di 160 pagine non lo so credo che abbiano forse subito a questo punto una riduzione delle pagine il prezzo di 6,90 euro credo fosse grossomodo lo stesso dello speciale dell'anno scorso non credo non so se sia aumentato o meno non ricordo ma credo insomma che se non è aumentato precedentemente a breve aumenterà perché sapete che insomma ci sono questi aumenti aumenti nell'aria che seppur tristi sono in qualche maniera da accettare naturalmente se si intende continuare a seguire queste pubblicazioni da Edicola come dicevo anche nel precedente filmato il fumetto rimane ancora il mezzo di svago insomma più economico perché provate ad andare al cinema e il biglietto cinematografico costa di più a meno che non abbiate la fortuna di beccare qualche cinemino di paese che ancora si sforza di tenere i costi bassi e non parliamo poi dei libri dei prodotti insomma da libreria oppure dei dischi musicali vinili che ultimamente stanno tornando molto di moda e si sta tornando insomma dal cd al vinile io mi chiedo dal sonoro al muto per quanto riguarda il cinema non lo so a breve magari ci sarà la riscoperta del cinema muto ma non divaghiamo troppo quindi Nathan Never speciale numero 33 128 pagine uscito nel dicembre del 2022 ma ancora in Edicola con questa ultra dettagliatissima copertina di Sergio Giardo e io vi faccio subito notare che dietro Nathan Never in quest'insegna sembra che ci sia scritto Moebius no? il celeberrimo fumettista francese che è uno dei preferiti, dei più apprezzati da Sergio Giardo e potrebbe forse essere una citazione non buttata lì a casaccio diciamolo così la copertina è molto bella e fa riferimento a uno degli episodi quello ambientato in autunno contenuti all'interno di questo albo perché questo speciale si suddivide in quattro episodi come potete vedere io vi faccio vedere la pagina d'apertura del penultimo episodio del terzo penultimo episodio denominato autunno appunto ambientato in questa metropoli piovosa in cui sembra insomma essere lo stesso ambiente appunto in cui è ritratta l'illustrazione della copertina i disegni sono provenienti insomma da quattro autori diversi perché ogni autore si è sobbarcato un episodio specifico mentre invece il soggetto e la sceneggiatura è per tutti e quattro gli episodi curato da Davide Rigamonti che quindi è lo scrittore diciamo di questo speciale gli episodi che recano i nomi delle stagioni quindi il capitolo 1 denominato primavera poi abbiamo l'episodio denominato estate quello denominato autunno e quello denominato inverno sono legati da un certo filo conduttore dalla presenza di un clochard che dovrebbe avere un senza tetto un clochard che dovrebbe a quanto sembra insomma avere le fattezze dell'attore Roger Auer come potete vedere forse non so quanto effettivamente ci somigli e poi naturalmente disquisiremo più nel dettaglio dei vari disegnatori che hanno collaborato insomma la stesura di queste tavole di questi disegni molto belli alcuni li ho apprezzati molto altri li ho apprezzati meno diciamo che la somiglianza insomma tra Roger Auer e questo senza tetto varia a seconda degli interpreti che appunto lo raffigurano come potete vedere qui secondo me di somiglianza Roger Auer non ce n'è moltissimo Roger Auer che era in Blade Runner naturalmente sappiamo che la fantascienza di Nathan Ever pur pescando da tanti sottogeneri diversi comunque si rifà in qualche maniera prevalentemente a quella di Blade Runner e io direi che Ivan Zoni che è il disegnatore dell'ultimo episodio quello ambientato in inverno sotto Natale come potete vedere dalla neve che cade è quello che è arrivato più vicino forse a rappresentare questo senza tetto questo clochard con appunto le fattezze di Roger Auer le storie sono autoconclusive quindi non occorre saperne molto a riguardo circa Nathan Ever per poterci capire qualcosa in mezzo a questo nugolo di vicenduole che ci vengono raccontate nella prima storia seguiamo la condanna a morte insomma l'esecuzione di un pericoloso criminale catturato proprio dall'agente alfa Nathan Ever e i disegni sono di Mario Rossi Marò e sono i disegni che più ho preferito di questo albo ecco è uno stile molto classico naturalmente Mario Rossi è un disegnatore insomma di lungo corso sulle testate di Nathan Ever il suo Nathan Ever in questa vignetta nella tavola d'apertura assomiglia quasi a Cary Grant come insomma mascella, labbra diciamo forse anche in qualche maniera sguardo non lo so c'è qualcosa di Cary Grant però a parte queste reminescenze di vecchi attori verso i quali io sono infissato le tavole di Marò sono veramente molto belle insomma guardate questo tratteggio che evidenzia la profondità lo spessore ecco che dà spessore a questi volti e mi piace veramente tantissimo la sintesi grafica di Mario Rossi e guardate quanto questa tavola pur essendo in bianco e nero naturalmente pur giocando tanto sui contrasti di luce riesce ad apparire luminosa cioè la giornata di primavera ci viene perfettamente restituita dall'interpretazione appunto di Mario Rossi i disegni sono veramente veramente molto belli molto classici credo eseguiti in analogico e non in digitale però ci sono veramente delle belle espressioni e il tutto è accentuato anche da questo chiaro e scuro vedete queste insomma queste vignette più più drammatiche possiamo così dire accentuate da da queste ombre meravigliosamente date da Mario Rossi la seconda storia invece è disegnata da Emanuele Boccanfuso artista che onestamente non conoscevo la seconda storia si intitola Estate il capitolo 2 appunto denominato Estate guardate che bella questa panoramica di Tropical City penso sia la città in cui perché ogni storia di ogni capitolo insomma di questo albo si ambienta in una città diversa ecco questa dovrebbe essere Tropical City da quello che ho capito forse potrei aver compreso male la cittadina in cui si svolgeva parte dell'ultima saga insomma intrigo internazionale ecco di Nathan Never bellissima questa questa visione d'insieme diciamo della città qui Nathan deve indagare circa la scomparsa di un ragazzo che a quanto pare insomma aveva qualche brutta vicenduola con la droga poi si scoprirà che in realtà questo ragazzo insomma tanto innocente neppure era i disegni qui mi hanno convinto un po' meno rispetto al tratto di Mario Rossi naturalmente sono si intende gusti personali questo è uno stile molto più moderno forse realizzato in digitale non lo so però un Nathan Never un pochino più leggero rispetto a quello di Mario Rossi insomma forse un pochino più giovanile anche per come viene per come viene per come viene mostrato non lo so la storia è però molto molto ben molto ben fatta e queste storie queste vicende insomma presentano delle piccole moraline finali che le accomunano un po' un po' tutte quante quindi sono storie non proprio fini a se stesse ecco potremmo così dire insomma la tecnica ecco di realizzazione è molto molto carina anche in questo caso forse un po' più impersonale rispetto a quella di Mario Rossi nell'episodio ambientato in autunno abbiamo disegni di Antonella Vicari su una storia che va a a riguardare i cani che sono presenti insomma fino a dei cani mutanti mutati ecco che sono presenti i cani dico fin dalle prime sequenze della storia come potete vedere qui ritorna appunto questo clochard basato sulle fattezze in qualche maniera di Rugerauer qui c'è qualche combattimento clandestino insomma di cani cani mutati o qualcosa di simile che Nathannever in qualche maniera dovrà sul quale Nathannever dovrà indagare la cittadina è asiatica meravigliosamente rappresentata da Antonella Vicari che insomma realizza delle tavole assolutamente dettagliatissime i volti sono estremamente espressivi e poi c'è un un bel primo piano per esempio di Nathannever come potete vedere qui e insomma le tavole sono sono molto carine forse un po' confusionarie nel senso che se viste da lontano il bianco nero forse neppure aiuta molto io continuo a preferire lo stile di Mario Rossi perché è più intuitivo nel senso che anche da lontano insomma si comprende benissimo che cosa sta succedendo ecco la visione di insieme non risulta particolarmente confusionaria anche quando appunto si trova a dover rappresentare delle sequenze dove appaiono più personaggi o appunto dove abbiamo a che fare dove si ha a che fare scusate con delle panoramiche l'ultimo episodio ambientato proprio sotto Natale infatti vedete l'albero di Natale è rappresentato con dei bellissimi mezzi toni anche peraltro da Ivan Zoni che io ho imparato a conoscere con il numero zero della nuova miniserie di Nick Rider naturalmente qualche tempo fa ormai è già passato un po' di tempo Ivan Zoni è un disegnatore che insomma assolutamente si è visto nell'ultimo periodo sulla testata di Nathan Never meravigliosa anche qui la tavola d'apertura del capitolo che presenta insomma sempre degli zoom più o meno vicini più o meno ravvicinati delle varie città in questione scusate veramente molto bello lo stile di Ivan Zoni e in particolare mi piace moltissimo come rappresenta Nathan Never Ivan Zoni è veramente molto molto efficace questo Nathan Never più più spigoloso forse ecco rispetto a quello per esempio di Mario Rossi più smilzo più giovanile con queste basette diciamo molto molto calcate molto però molto molto bello insomma Nathan Never rappresentato da Ivan Zoni qui c'è un massacro da diciamo da 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 indagare per Nathan Never un massacro che è stato compiuto in una sorta di centro commerciale come potete vedere da queste da queste vignette anche in quest'ultimo episodio è presente una sorta di 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 moralina insomma finale si va un po' più nell'intimità ecco delle delle tematiche rappresentate uno speciale bello leggibile insomma niente di particolarmente imprescindibile per quanto riguarda la continuity in Nathan Never anzi lo definirei piuttosto staccato forse si legge un po' troppo in fretta per essere uno speciale io continuo a preferire gli speciali con una fogliazione insomma maggiore rispetto a quella di 120 120 130 pagine a me piacciono gli speciali dalle 160 pagine in su perché si costa di più però almeno c'è anche di più di più da leggere non sono un grandissimo estimatore delle storie brevi preferisco una bella storia lunga che inizia non finisce mai rotoloni bonelli non finiscono mai però comunque in questo caso l'iniziativa è apprezzabile ci sono quattro stili appunto di disegno totalmente diversi totalmente differenti fra loro sebbene estate e autunno siano quelli che sono quelli che mi hanno soddisfatto meno però è uno speciale molto gradevole se l'avete letto fatemi sapere che cosa ne pensate a riguardo per il resto io vi ringrazio come sempre per l'ascolto del video e sperando di non avervi eccessivamente annoiato vi do appuntamento a voi piacendo naturalmente si intende al prossimo filmato ciao a tutti e buon proseguimento di giornata grazie a tutti